Oggi abbiamo una serie di pillole che probabilmente saranno costanti nelle varie settimane oppure ci alterneremo a seconda dei contributi anche di altri relatori. Come vedete nella slide di presentazione troviamo un titolo che è il Network della Sostenibilità Cristiana. In verità non è il titolo della slide, ma qui oggi lanciamo ufficialmente il nostro slogan della TV di Padre Pio che è appunto chiamato e individuato come il Network della Sostenibilità Cristiana. Perché? Perché in realtà per i valori che sostengono la nostra TV, che sono quelli afferenti, i principi cristiani, i principi della fratellanza francescana e quello che in realtà è l'opera di Padre Pio che dà il nome a cui ci ispiriamo come TV, abbiamo ritenuto grazie anche al contributo di Papa Francesco all'orientamento della nostra Chiesa Cattolica e di tutte le sue maggiori espressioni in campo dottrinale sul tema della sostenibilità e con il contributo dell'ONU che adesso vedremo, in realtà abbiamo ritenuto indirizzare, orientare e quindi aggiungere ai contributi costanti e quotidiani della nostra TV anche i temi sulla sostenibilità. E quale migliore occasione era quella di poter chiamare sostenibilità cristiana sia perché ci crediamo noi, ma soprattutto perché in realtà ci ispiriamo a quello appunto che è la dottrina sociale della Chiesa e in particolare a quelli che sono anche i contributi di cui vi parlavo del nostro Santo Padre. Allora, in particolare quindi abbiamo il principio cristiano dell'amore verso l'altro che ci porta, che è il prossimo, che cementifica la forza della ciclorità dell'essere e quindi ci porta sempre più a orientarci verso la sostenibilità delle azioni dell'uomo nel contesto naturale in cui esso vive. E a tal riguardo ricordiamo come anche i nostri pregevoli presentatori hanno sempre sostenuto nei giorni scorsi che siamo di fronte ad una sostenibilità sistemica che è suffragata soprattutto dall'agenda dell'ONU e da quelli che sono i relativi principi per lo sviluppo sostenibile e quello che in realtà è rappresentato anche dalla vision dell'enciclica Laudato Si e Fratelli Tutti per un'economia umana. Allora vediamo un attimo, proprio perché abbiamo parlato di questo, ci riferiamo al Magisterio di Papa Francesco. Il Magisterio di Papa Francesco che è molto più ampio di quello che adesso qui vediamo in slide, fa riferimento e lo raccogliamo per noi essendone onorati con queste encicliche e questi contributi, così comprendendo anche l'ultima esortazione che è Laudate Deum che è stata pubblicata dal Papa Francesco il 4 ottobre. Come vedete citiamo Laudato Si, la lettera ai giovani nel 2019 che ha dato poi vita all'economia Francesco, l'Arlen Cicchi che ha Fratelli Tutti, la stessa economia Francesco di cui ora parleremo brevemente che è sorta nel 2020 e continuamente dà un contributo in termini anche accademici da parte degli studiosi di tutti quanti i giovani e poi Laudate Deum. Allora, a tal riguardo abbiamo il piacere di voler sottolineare in particolare una frase che è estratta dalla Cica di Laudato Si, dalla quale noi leggiamo che se noi ci accostiamo alla natura e all'ambiente senza questa apertura, allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della fraternità e della bellezza della nostra relazione con il mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del consumatore o del miglior sfruttatore delle risorse naturali e non è assolutamente questo quello che è l'obiettivo che ci ispira come i nostri valori cristiani. A questo aggiungiamo che cosa? Che il Papa nel video messaggio che ha pronunciato il 24 settembre 2022 ha sottolineato l'importanza di una new economy, di un'economia ispirata all'ecologia integrale ma soprattutto anche verso i nostri fratelli, il nostro prossimo e quindi infatti il Papa ed è quello che poi ha ispirato la stessa nostra trasmissione perché come sappiamo è la regola della sostenibilità da Francesco a Francesco e la frase che a noi piace rilanciare è questa, una nuova economia ispirata a Francesco d'Assisi oggi può e deve essere un'economia amica della terra, un'economia di pace, si tratta di trasformare un'economia che uccide ai noi in un'economia della vita in tutte le sue dimensioni. Ecco di qui emerge, i latini direbbero la vis, la forza di questo messaggio che per noi rappresenta il riferimento principe e a tal riguardo non possiamo anche non sottolineare il contributo che riceviamo dall'ONU, dobbiamo sottolineare quanto sia stato fondamentale che l'ONU abbia scritto una cosiddetta agenda che pone degli obiettivi da raggiungere dentro il 2030 e che sono chiamati 17 goals, 17 obiettivi che possono trasformare il nostro mondo, che vanno dalla povertà zero, dalla fame zero, dalla salute e benessere, riscrizione di qualità, istruzione, uguaglianza di genere, ridurre le disuguaglianze, però a tal riguardo avremo modo poi nei prossimi incontri di approfondirli, tengo a sottolineare che i 17 principi dell'ONU sono sintetizzabili in tre dimensioni, che vengono chiamate le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, cioè la dimensione sociale, la dimensione ambientale e la dimensione della legittimità dell'etica in quello che sono le organizzazioni. Comprendiamo benissimo tra Italo e Tony quanto siano fondamentali queste tre dimensioni che sostanzialmente poi vengono esplose nelle cosiddette 5P che sono persone, pianeta, prosperità, partnership e pace. Allora ecco che su questi principi e sul contributo che ha dato Papa Francesco anche con la sua presenza all'ONU per lanciare uno sviluppo sostenibile, possiamo dire che aggiungiamo a questo i contributi del Cardinale Ravasi che parla di una dimensione etica per l'economia e questo ne ha parlato nel 2016, così come anche Monsignor Nuzio Galantino parlando di nuovi paradigmi di crescita sostenibile, della decorbanizzazione, resilienza e rigenerazione esattamente il 9 febbraio di quest'anno e portandoci avanti a questo punto possiamo sintetizzare dicendo che la vision e la mission della nostra TV sono rappresentate dal profondere la sostenibilità cristiana per la crescita sociale e umana di tutti gli utenti della TV e rappresentare quotidianamente le azioni, i principi cristiani profusi da Padre Pio e da tutta la comunità francescana per diffondere nella società anche attraverso il corollario della sostenibilità. Ecco questo è stata una presentazione che probabilmente diciamo ho fatto anche per esigenze di tempo di trasmissione in modo anche abbastanza sintetica e forse anche sostenuta in termini di velocità di eloquenza. Spero che in realtà sia giunto tutto in forma chiara ma al tempo stesso diciamo anche sintetica e quindi è fondamentale quello che è il contributo che stiamo provando a dare come trasmissione e come televisione grazie anche alla vostra come ho detto prima pregevole conduzione trattando quelli che sono i temi lungo possiamo chiamare questo binario della sostenibilità cristiana che è suffragata e alimentata in maniera paurica dal magistero del Papa. Questo anche perché prof l'orizzonte 2030 tutto sommato se ci pensiamo è molto prossimo per cui ecco la domanda mi sorge spontanea. Intanto la riflessione che stiamo andando sicuramente nella direzione giusta e ognuno di noi deve provare a fare la sua parte in questo senso e noi come tv ce la metteremo tutta ma considerando anche che l'anno 2023 ormai agli sgoccioli sei anni o poco meno basteranno per riuscire ad agguantare questi traguardi fondamentali per tutta l'umanità? Allora sì raccolgo con entusiasmo e con interesse questa bellissima domanda perché in realtà tutta l'accademia sia quella espressa attraverso l'economico francesco che sia l'accademia quella più diciamo laica rappresentata proprio appunto dagli studi anche universitari di tutti gli studiosi si stanno ponendo questo tema perché in realtà l'agenda 2030 che è stata appunto lanciata dall'ONU è stata lanciata alcuni anni fa e quindi il tempo è tirano come si suol dire e per tutto quello a cui stiamo assistendo questo timore è avvertito ma nel contempo dobbiamo dire che la sensibilità a livello mondiale è davvero molto molto alta e quindi che cosa sta facendo per esempio il settore cosiddetto aziendale che poi in qualche modo è coinvolto se non in prima battuta in seconda battuta? Dico in prima perché l'uomo è l'attore in prima battuta che deve dare il buon esempio e deve mostrarsi attento nella sostenibilità verso il prossimo e la natura le aziende che non sono altro che un sistema sociale quindi è il secondo livello di collettività oggi sempre più sono tenute ad esprimere con un'informativa aziendale quello che è il loro impegno sui temi della sostenibilità hanno delle tappe anche molto per esempio le grandi imprese devono farlo obbligatoriamente entro il 2025 e quindi questo ci lascia diciamo e ci dà un buon auspicio per immaginare di potercela fare entro il 2030. Abbiamo solo qualche altro istante però ecco mi veniva naturale riflettere mentre il prof illustrava il percorso della tv e di questo programma mi veniva naturale arrivare al periodo con cui il papa l'ultimo periodo con cui il papa chiude l'esortazione apostolica laudatedeum che è una sintesi efficacissima di tutto il documento e di tutto quello che stiamo dicendo noi adesso un essere umano che pretende di sostituirsi a dio diventa il peggior pericolo per se stesso. Esatto. Quindi ecco noi vogliamo provare a invertire questa tendenza come padre Pio TV in generale con questo programma in particolare provare a tracciare una strada nuova che ci aiuti a non essere un pericolo per noi stessi e per gli altri. Infatti e aggiungo solamente non so se ho tolto la parola fra Italo era solo per dire che in realtà in questo percorso avremo la possibilità di invitare ospiti che porteranno i loro contributi in termini anche di esempio quotidiano in termini sia di associazionismo in termini anche di attenzione alla sostenibilità da parte di imprenditori e associazioni di aziende e questo deve essere diciamo un esempio concreto e plastico che si aggancia a quello che dicevi tu Tony e poi chiedo a Fra Italo una chiosa sul nostro padre santo padre legato al fatto che è fondamentale che sia sempre l'uomo ecco perché il Papa attraverso l'enciclica che l'ha dato sì ma in continuità ricorda che l'ecologia integrale ma in maniera particolare la nuova economia deve partire dalle azioni del quotidiano dell'uomo dell'uomo che al centro del in questo caso del pianeta e che non deve sostituirsi appunto Tony a Dio ma deve essere il deve contribuire mantenendolo quantomeno affinché le future generazioni possano goderne in forma migliore ma l'attenzione è verso il prossimo se noi trattiamo e consideriamo il prossimo come noi stessi non potremo che essere sostenibili per natura esatto professore noi chiudiamo proprio con l'appello del Papa ossia molto paternalmente lui in laudate deum esprime questa sua preoccupazione e questo dolore con il passare del tempo mi rendo conto sono passati otto anni da laudato sì che non reagiamo abbastanza perché il mondo che ci accoglie si sta sgretolando e forse dice lui si sta avvicinando a un punto di rottura quindi reagiamo credo che tutto alla fine il sommaglio di quello che ci siamo detti delle proposte che abbiamo fatte è questo reagiamo assolutamente esatto grazie prof per il suo preziosissimo intervento speriamo di ritrovarlo grazie a voi